Andiamo avanti, famiglie e organizzazioni della società civile in rete grazie al progetto FAMI.LINK presentato a Perugia. Valentina Baldoni. Una rete composta da ben 15 organizzazioni della società civile, cooperative, fondazioni e associazioni, in grado di rispondere ai fabbisogni delle famiglie che risiedono nei comuni di Perugia e Assisi. Si chiama FAMI.LINK. Questo è uno dei progetti che è stato finanziato con un ex FAS, quindi un fondo comunitario, che è stato riallocato proprio per garantire dei servizi innovativi di prossimità alle famiglie, soprattutto alle famiglie con bambini e con anziani in casa. Quindi sono due delle emergenze del nostro nuovo sociale. Il progetto, al quale sono stati destinati quasi 3 milioni di euro, mette a sistema un insieme di interventi sia per la famiglia mononucleare, composta da un anziano solo, che alla coppia di anziani, alla famiglia con uno o più membri bisognosi di assistenza e a quella che sperimenta problematiche giovanili o educative o semplicemente scolastiche. FAMI.LINK offre orientamento e supporto mettendo in rete e semplificando l'accesso ai servizi. Si può contattare tramite gli uffici della cittadinanza della zona sociale numero 2 di Perugia e la zona sociale numero 3 di Assisi, ma anche via internet con la pagina Facebook, la mail e il sito del progetto FAMI.LINK.